Arriverà Elsa Fornero fra poco qui con noi, lei ha detto tante volte, secondo me anche in modo discutibile, glielo ho detto con sincerità, ha fatto delle cose secondo me personalmente violente nei suoi confronti. Si chiama legge Fornero, se fosse chiamata legge Merlino avrei attaccato la legge Merlino, si chiama legge Fornero, è una pessima legge, ha fatto disastri, va cambiata, va superata. No ma la legge va benissimo, è la persona, comunque lei dice va cambiata, con cosa la sostituirebbe quella legge lì? Prima avevate ospite un parlamentare del PD, e non dico con la mia idea, io approverei domani mattina la proposta in legge sulle pensioni dell'onorevole del PD, che prevede la quota 100, ovvero sia 60 anni d'età, 40 anni di contributi. Non l'ho fatta io, l'ha fatta una parte politica opposta alla mia, io la voterei domani mattina, perché sono stufo di incontrare uomini e donne di 63, 64, 65, 66 anni, che smadonnano perché stanno morendo sul posto di lavoro. Uno ha diritto di godersi la sua pensione e i suoi 40 anni di contributi prima che gli si scavi la fossa. Allora, grazie Matteo Salvini.